Un lungo weekend festivo terminato all'insegna di feste e ultimi pranzi in famiglia e il sindaco Mastella nel giorno dell'epifania che tutte le feste portano via ha disposto in questi giorni in quelli che verranno controlli severi sulla vendita di liquori e bibite alcoliche a minori dopo le strage avvenute nel weekend in provincia di Bolzano e a Senigallia e si affida un post su Facebook annunciando controlli rigorosi e sanzioni per gli esercenti che per pura logica economica concedono liquori e bibite alcoliche ai ragazzi minorenni il rischio nella notte come testimoniano i drammi degli ultimi giorni richiede controlli efficaci e severi 6 giovani tedeschi infatti sono stati investiti in Trentino Alto Adige nella notte tra sabato e domenica altra tragedia a Senigallia dove due giovani donne sono state investite e uccise da un guidatore ubriaco davanti a una discoteca, tutti eventi collegati all'eccessivo abuso di alcol tra giovani una vera emergenza ha tornato il primo cittadino Mastella ed è lo stesso parere il comandante dei vigili urbani di Benevento, Ferramante Bosco che promette insieme al sindaco controlli severi e sanzioni contro chi non rispetta le regole già dal prossimo venerdì, anche se con una nota dolente in quanto secondo Bosco è impensabile riuscire a monitorare con organico ristretto e dunque sarebbe necessario un lavoro sinergico con le altre forze dell'ordine la legge punisce i trasgressori con una multa da 250.000 euro e i commercianti con sospensione dell'attività per tre mesi e i commercianti con sospensione dell'attività per tre mesi